Eccoci qui, buongiorno ragazzi, benvenuti se state guardando nel gruppo Facebook e benvenuti anche se state guardando il canale YouTube. Aspettiamo per quelli che sono in diretta che arrivino un po' di persone, che arriva un po' di audience. Claudia, ben trovata. Allora, di che parliamo oggi? Continuiamo il discorso della capacità di fare formazione, della capacità di connettersi con il proprio pubblico da un punto di vista della gestione dell'aula, del trasferire contenuti, dell'insegnare, del tenere dei corsi che siano non solo una vetrina per il formatore che porti a casa il risultato in termini di non generare troppe insoddisfazioni, di fare il compitino, di erogare quello che sa e quello che sa fare. Informazioni su quello che sa fare. Per me far formazione è, uno, connettersi profondamente con le persone che hai in aula, che hai davanti, con cui riesci ad interagire, anche se è un gruppo grande. Due, fare in modo che la formazione che eroghi sia una formazione che venga assorbita profondamente dalle persone che riescono poi a implementare quello che gli hai trasferito. Ieri abbiamo introdotto le basi di un modellino, che in realtà modellino non è, ci ho lavorato tantissimo, in realtà l'ho sperimentato in tanti anni di lavoro, di formazione con gruppi, con persone, in contesti molto diversi, dai ragazzi scout agli studenti di Drabucconi, passando per manager, project manager, direttore di banche, CEO di multinazionali. Quando ti connetti, vuoi connetterti con un pubblico, devi capire alcune cose fondamentali. Il lavoro della scuola formatori che terrà un marzo va anche in quella direzione. Capisci che siamo molto oltre rispetto al classico public speaking. Il public speaking porta l'attenzione sul fatto di farti fare bella figura, sostanzialmente, anzi di non farti fare una brutta figura, gestire lo spazio, il corpo, i movimenti, eccetera, eccetera. Sono cose importanti che però puoi ottenere, e puoi ottenere anche molto di più, quando lavori a un livello diverso, dove il public speaking viene come sottoprodotto, come qualcosa di molto naturale, quando fai quello che ti so per dire, quando impari a fare quello che ti so per dire. Ieri abbiamo introdotto gli avatar, abbiamo introdotto i personaggi dell'esperto, del mago, del leader e del saggio. Quattro modalità diverse di fare il formatore, in cui puoi modulare il tuo essere formatore, il tuo parlare in pubblico, il tuo tenere in aula, perché sono quattro modalità, quattro tipi di energia, quattro tipi di linguaggio, di uso del corpo, di movimento, di narrazione, che si connettono con quattro diversi tipi di pubblico. Abbiamo anche detto che questi quattro tipi di pubblico, cioè quelli che rispondono all'esperto, al mago, al leader e al saggio, sono quattro tipi di pubblico di cui due, tre, sicuramente li troverai in aula. Qualsiasi aula tu abbia, in qualsiasi modo sia composta, troverai tantissime persone che vogliono un esperto, tantissime persone che vogliono un mago, con le spiegazioni che ti ho dato ieri, quindi. Troverai tantissime persone che organizzano il proprio apprendimento sulla base delle informazioni e tante persone che organizzano il proprio apprendimento sulla base di trucchi, di segreti, di tecniche. Allora, cosa cercano? Oggi andiamo un po' più in profondità e voglio spiegarti cosa cercano, quali abilità devi avere per organizzare la tua formazione, per organizzare il tuo speech, la tua interazione col gruppo, in relazione a queste quattro figure, in relazione a questi quattro tipi di persone. In realtà non sono tipi di persone perché non è una categorizzazione, poi vedremo a marzo in aula come in realtà questo è un processo evolutivo, non è una tipizzazione delle persone, però adesso per semplicità ragioniamo come se fossero quattro categorie diverse di persone. Le persone che cercano un esperto organizzano il proprio sapere sulla base di differenze e dettagli. Sono persone che apprendono e che vogliono che le informazioni siano date per differenze e dettagli. Sono quel tipo di persone che su una marca di motociclette iniziano a fare tutte, ma perché quella ha un motore di 3 cm3 in più e allora la coppia gli aumenta e però questo non si bilancia con la dimensione degli pneumatici, sto inventando. Però quel tipo di attenzione ai dettagli e alle differenze. Queste persone letteralmente godono, provano piacere quando le informazioni gli vengono date per differenza, per dettagli e differenze. Anzi, più piccoli sono e più vanno in sollucro, più apprendono anche. Quindi tutto quel tipo di informazioni che gli vengono date in questo modo. Questo è così, ma questo è così, perché c'è questa differenza che gli aumenta. Quindi a qualcuno potrebbero sembrare cavillosi, a qualcuno potrebbero sembrare farsi delle enormi masturbazioni mentali su questo tipo di cose, però questo tipo di persone risponde a questo. Le persone che hanno un'aula, invece le persone che rispondono al mago, sono alla ricerca e vogliono che le informazioni gli vengano organizzate sotto forma di tecniche e sistemi. Sono persone alla ricerca della tecnica e del sistema per ottenere di più, per avere un vantaggio competitivo, come ti dicevo ieri, ma qualsiasi informazione tu gli dia vogliono andarsi a prendere il succo della tecnica e il succo del sistema. Quelli che cercano il leader, invece, cercano, vogliono che le informazioni apprendano attraverso le esperienze. Si annoiano con i dettagli, si annoiano, anzi, vedono anche, leggono in maniera molto manipolativa e molto negativa, le tecniche e i sistemi, a cui si vogliono le esperienze. E gli ultimi, infine, quelli che sono alla ricerca dell'esperto e quindi di una trasformazione dell'esperto, scusami, del saggio, quindi alla ricerca di una trasformazione, di un'evoluzione, rispondono e vogliono che le informazioni gli vengano date attraverso delle metafore, delle storie, delle metafore, dei racconti e vogliono lavorare sulla propria struttura. Allora, per quanto ti possa sembrare in questo momento complicato, scuro, strano quello che ti sto dicendo, credimi, questo che ti sto dicendo è il risultato di 20 anni, 18, 20 anni di lavoro con le persone e dopo aver provato qualsiasi tipo di approccio formativo, negli anni 90 la PNL, visivo, uditivo, cinestesico, bisogna dargli le informazioni e così. Dico che non siano cose corrette, al di là del fatto che quel tipo di approccio è davvero pre-neuroscienze, pre-neuroscienze, è molto vecchio, diciamolo così, se proprio vogliamo dare una parola magari non elegantissima, però sono cose che non rimangono appiccicate soprattutto. Certo, dovrai imparare a renderti conto di come struttura l'autocomunicazione, però non è questione di visivo, uditivo, cinestesico, non è questione di parlare in pubblico usando dei gesti particolari o come dire, usando la voce in un certo modo. Certo, se lavori sulla voce e la migliori e curi che l'emissione sia corretta, andrà male, non fa. Ma non è da lì che si genera l'apprendimento delle persone che hai in aula. Devi imparare a strutturare la tua comunicazione usando dettagli, usando storie, organizzando il tuo sapere in tecniche o in esperienze. E devi farlo in maniera fluida, devi farlo in maniera assolutamente trasparente per le persone che sono in aula, ma assolutamente trasparente anche per te. Deve iniziare a essere una cosa naturale per te, modulare e ciclare tra esperto, leader, mago e saggio. Sembra impossibile, lo so, sembra una cosa complicatissima, in realtà è qualcosa che ti farò vedere, toccare con mano e fare direttamente alla Scuola Formatori del 7-11 marzo. È un corso bellissimo in cui andremo al cuore, alla radice di come si lavora in aula, si lavora con le persone, uno a molti, non uno a uno, ma uno a molti, quindi non è un corso di coaching, è un corso per fare il formatore, e dove si generano risultati trasformativi per le persone, si genera un vero apprendimento partendo dalla posizione, dallo stato in cui le persone in questo momento sono, in cui vogliono apprendere in modo che non ci sia attrito, non ci sia contrasto, non ci sia morbidezza nella relazione, soprattutto all'inizio, è la cosa più importante. Quindi, ricorda queste informazioni che ti ho dato, sono informazioni di vero valore, non sono quattro cose buttate lì, ho lette su un libro, sono cose su cui ho lavorato, se solo prendessi queste informazioni e ci lavorassi su per conto tuo, potresti fare un cambiamento enorme nel modo in cui parli con le persone, gestisci gruppi, lavori in aula. Ti aspetto a marzo per farti vedere l'applicazione di questa idea, di queste idee e di come io le implemento nella mia formazione da tantissimi anni e di come puoi iniziare a farlo anche tu per fare in modo che la tua formazione esploda a un livello totalmente diverso da quello in cui è adesso. Ci vediamo a marzo, ci vediamo anche nei prossimi video, ma ci vediamo a marzo, fra un po' dimanderò il link per la scuola formatore, in realtà è semplicissimo, www.scuolaformatori.com e puoi leggere il programma, puoi iscriverti, puoi vedere quanti giorni dura, dove saremo. Saremo a Verona, dura 5 giorni, te lo dico adesso, ma ci sono molte più informazioni, anche logistiche, gli orari e tutto il resto. Ci vediamo qui nel canale nei prossimi giorni, un abbraccio da Simone, ciao!